9 in punto, la versione di Oscar Buongiorno cari ascoltatori, allora questa puntata di mercoledì 14 settembre è una puntata che spero non apparirà surreale ad alcuni di voi Io vi invito ad ascoltare con attenzione, certo ci sarà un giornino un po' fuori dalle righe rispetto al solito perché ci porremo oggi il seguente problema posto che i mercati ci indicano di credere realisticamente alla probabilità che l'euro salti e continueranno a sfidare l'Italia sul default continueranno a farlo, i politici possono dire quello che vogliono ieri abbiamo sfondato per l'ennesima volta il record sia sui CDS, cioè i contratti di assicurazione sovrani sia sullo spread BTP Bund, siamo arrivati a quota 440 a un certo punto, poi siamo scesi sotto quota 400 siamo di nuovo nei futures stamattina prima dell'apertura del mercato a quota 400 Che cosa capita in uno scenario di questo tipo con l'Italia, primo euro emittente che diventa il banco di prova a braccio di ferro della tenuta dell'euro e quindi il mercato scommette sulla nostra impossibilità di continuare a pagare tasse di interesse più elevati in questo consiste la sfida, poiché siamo un paese a bassissima crescita e a deltissimo debito pubblico Cosa succede? La storia dice che ci sono diverse strade di fronte a questo ovviamente la via dei liberisti, mercatisti come me è quella di dire che c'è chi ha fatto il debito, cioè lo Stato che ha un attivo più che proporzionato al debito a cielo sui mercati e quindi lo deve ripagare lui e non chiedere ai cittadini di farlo al suo posto, questa è la mia opinione rimango fermamente di questa opinione anche se sento che ci sono fior di imprenditori Luigi Abete e Ballarò sosteneva che la patrimoniale è l'unico metodo anzi la patrimoniale sarebbe l'unico metodo per abbassare le imposte sulle imprese e anche dare più lavoro io sono d'accordo ma comunque la via dei mercatisti e chi ha fatto il debito lo ripaga anche se come si vede poi di fronte al fatto che lo Stato dice che lo dovevano ripagare i contribuenti la cosa diventa pesante perché se la devono pagare i contribuenti e per di più devono abbottossarsi il peso di manovre deflazionistiche molto pesanti per anni e anni con bassa crescita, compressione dei redditi, ulteriore stagnazione della domanda interna ulteriore compromissione dei diritti dei loro figli che già sono trattati molto peggio di quanto le generazioni garantite hanno dato a se stessi in termini di retribuzioni previdenza e diritto sociali, capite bene che i paesi possono prendere la strada per cui la gente inizia a dire ma cos'è questa storia che ci impongono i mercati ma chi sono questi signori dei mercati? Ma perché dovremmo sempre noi pagare il conto quando noi non abbiamo fatto il debito e noi ci rimettiamo con i salari e con il futuro e la nostra vita peggiora sempre e questi sarebbero i cittadini dei paesi avanzati insomma le proteste della Grecia per essere chiari però attenzione non c'ho solo l'esempio della Grecia di cui si parla molto c'è anche l'esempio di un paese nordico di cui si parla quasi niente in Italia che è un esempio per certi versi incredibile sto parlando dell'Islanda, lo uso come esempio poi vi dico in un altro minuto e mi taccio al punto a cui arriviamo oggi perché c'è anche il caso dell'Islanda? perché non c'è solo la via liberale e liberista chi ha fatto i debiti li paga se può se non può comunque bisogna assicurare la solvibilità di un emittente sovrano e quindi a quel punto bisogna ricorrere anche alle manovre pesanti quindi c'è anche la strada di chi dice da sempre e no questo eccesso di debito riguarda chi l'ha fatto chi l'ha fatto non è in condizione di onorarlo e una parte del debito si disconosce o in parte o in tutto il debito si può anche ripudiare è una storia che va avanti dal Medioevo guardate, è da ancora prima fior di regni hanno fatto fallire fior di banche perché ripudiavano a un certo punto il debito il cui intenzio di interesse non erano più in grado di pagare fior di grandi crisi bancarie di compagnie finanziarie e commerciali nel Medioevo italiano e che erano leader in Europa derivarono dal fatto che i re non pagavano era il fallimento della compagnia dei Bardi a Firenze per essere chiari, insolvenza del re britannico ma fu la compagnia di Genova, il primo comune di Genova che tra 1200 e 1300 fece il primo esperimento di ripudio totale di un debito sovrano che aveva emesso all'epoca si cambiavano i banchieri, si abbassava il titolo delle monete e si svalutava quindi e si andava avanti certo c'era un po' di fatica a ricostruire la fiducia ma si andava avanti poi con i mercati globalizzati questa pratica è molto più dolorosa ma è capitato all'Argentina che ci ha messo anni per andare sotto e rimettersi in piedi molti anni che è l'esempio di prova di come si può arrivare a un default con ripudio del debito ma fatto molto male ma c'è anche chi lo fa in maniera totalmente diversa sto parlando dell'Islanda l'Islanda nel 2008 si trova con le banche completamente al centro di una crisi di solvibilità erano molto indebitate ad alta leva finanziaria esattamente come nel modello anglosasso le tre banche principali del paese vengono nazionalizzate perché sono praticamente fallite devono un pacchio di miliardi alte così soprattutto alle banche olandesi e alle banche britanniche devono ammontare i superiori per diverse volte al totale del PIL islandese la valuta islandese e la corona crolla nei confronti dell'euro il governo islandese è alla banca rotta e quindi deve ricorrere al fondo monetario che dà aiuti per 3 miliardi e naturalmente chiede manovre durissime gli islandesi scendono in piazza scendono in piazza e impongono dopo tre giorni di civile ma durissima protesta di fronte al Parlamento e al Stato del Governo che il primo ministro dell'epoca se ne vada si chiamava Arden arriva un nuovo governo il nuovo governo socialdemocratico guidato dalla signora Sigurdortir che naturalmente dice signori islandesi io però devo amare una manovra durissima perché altrimenti il fondo monetario non ci dà i soldi e noi non andiamo avanti e non paghiamo i debiti la manovra durissima 3 miliardi e mezzo che però per l'Islanda che è grande un terzo dell'Italia ma ha un settimo di abitanti di Roma per capirci e 3 miliardi e mezzo sono tanti e quindi sì il governo chiede che gli islandesi paghino una vera patrimoniale cioè una patrimoniale del 5,5% per 15 anni per 15 anni di fronte a questo gli islandesi riscendono nelle piazze e dicono cara Presidente del Consiglio neanche per idea non ci pensiamo nemmeno il governo il debito non lo abbiamo fatto noi e a quel punto il Presidente della Repubblica Grimson indice un referendum sulla questione i britannici gli olandesi il Financial Times il Wall Street Journal dicono eh non fate scherzi voi dovete non avere i debiti gli islandesi se ne fanno due baffi lunghe così il debito alle banche estere si ripudia perché chi l'ha fatto è un criminale e se il Presidente del Consiglio precedente pensava di dover onorare lui è un criminale pure lui tanto che il governo va a casa anche questo altro governo il debito estero viene ripudiato quello delle banche ripudiato se ne pagherà una parte dell'altro debito solo in proporzione al PIL islandese negli anni a venire si apre un'inchiesta politica contro i Presidenti del Consiglio precedente infatti sono alla sbarra e adesso sei finita l'istruttoria ed è iniziato il processo e in più e in più e in più si ridecide di scrivere alla Costituzione quella del 44 quando l'Islanda si separò dalla Danimarca è incredibile a chiamare a scrivere alla Costituzione sono 25 cittadini estratti estratti non so se avete presente estratti tra centinaia di candidature tra coloro mai iscritti a partiti questi 25 cittadini estranni alla politica scrivono una Costituzione che deve essere sottoposta al Parlamento a ottobre sapete come la scrivono? la scrivono sui social network con consultazione quotidiana sui testi di tutti gli islandesi mi fermo qua mi fermo qua perché naturalmente il mercatista è dell'idea che i debiti si onorano gli stati sorani come l'Italia fondatori dell'euro devono onorarli l'attivo patrimoniale pubblico è quella la strada però c'è un'altra strada attenzione e allora discutiamo attenzione